Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Yes Baby, bentornati! Scusate la voce, ma sto registrando questo video durante la settimana della Sagra e potete già capire la situazione, vedrete qualcosa più o meno perché non posso registrare troppo, però ho registrato qualcosa. Comunque al di là di questo, questa settimana è iniziato il giovedì perché perché il giovedì ormai è da un po' che a monte ci sono le nati bianche d'estate e quindi ogni giovedì ci trovate lì che giriamo per bar. Oh! E Alex pensa che è solo giovedì! Candle il can... però Alex dai, dillo! Deborah perché non sei venuta le notti bianche? Deborah, perché non sei venuta le notti bianche? Deborah! Questa dichiarazione d'amore! Per l'amore... per l'amore tuo! Mi fa tomano il cuore del mondo! Il sabato invece c'era il palio a Valdobbiadri quindi ovviamente siamo andati a fare un giro anche se era iniziato a diluviare veramente per poi andare a un summer festival qui vicino. Questa settimana a trovare l'amorosa del volpe! Oh no! Manca mamma! Non siamo venuti tra la sua amorosa! Proviamoci, proviamoci, proviamoci! Bene il palio! Ciao! Siamo venuti a Cornuta ragazzi! L'edrio piova, cade il can... L'edrio piova! Adesso di piovere sono saltate le luci! Let's go Lele! E il volpe, perso il volpe camorosa! Sabemi! Sabemi! Adesso di piovere! E siamo finiti a Cornuta ragazzi! Tutti insieme! Il volpe! Con due cilievo! No! Attenzione! Saluto a tutti! Benvenuti a Cornuta! Grazie! Bene! La domenica invece siamo andati intorno al calcio Saponato dove giocava un nostro amico ed è stato veramente divertentissimo. Guarda che tempo mi porta a vedere Napoli e Palermo dal Rio! Questa è stata che è nata che si porta al calcio Saponato! Calcio azzotto! Con quel ribali bianco! E' nato! Carica dietro! Carica dietro! Carica dietro! Carica dietro! Oh no! Vai la, vai la, vai la! 1, 2, 3, 2, 1! Ultimo disco per Uberto Ravostello! Grazie Ube! Bene ragazzi, questo weekend lo sono registrato poco, mi dispiace, ma comunque spero vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Vi ricordo che ogni settimana, il lunedì, esce un video dove esce il mio weekend, molto divertente, quindi iscrivetevi, lasciate like, commentate e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Ciao!